Internet, rete d'Italia, intardo su molti fronti. Che politiche vanno perseguite per aiutare il paese a sfrega? Oltre a quelle infrastrutturali, io credo che il punto chiave è quello che la pubblica amministrazione deve fare il salto della digitalizzazione. Operare in digitale e interloquire col sistema di cittadini e delle imprese attraverso la rete. Se la pubblica amministrazione userà solo questa modalità, questo farà fare un salto in avanti perché guiderà il cambiamento. Quindi dovrà essere l'offerta che determinerà la domanda. Come rendere realmente effettiva la rimozione digitale del PA? In qualche misura, l'ho già detto, credo che si sia iniziato a percorrere la buona strada, e cioè utilizzare quei cambiamenti che fanno leva, cioè che impongono agli utenti della pubblica amministrazione un cambiamento. La fatturazione elettronica imporrà alle imprese di interagire attraverso le piattaforme elettroniche. Il PIN unico annunciato dal Governo per tutti i cittadini faciliterà l'approccio ai servizi online. E anche l'integrazione delle anagrafi è una via giusta che si sta percorrendo. Quindi penso che queste chiavi sono le chiavi per fare un cambiamento di sistema e non delle trasformazioni spot come molto spesso è accaduto in passato. Quale ruolo, secondo lei, di assumere l'agenzia reale digitale? Io credo che debba assumere proprio questo ruolo di regia. Cioè non si deve focalizzare su singole soluzioni tecnologiche. È quello che pensa il mercato, ci pensano le imprese. Ma deve fare sì che il sistema sia unico, integrato, tra tutti i livelli di Governo. Ci sia l'interoperabilità, la standardizzazione delle modalità operative e quindi fare sì che ci sia un cambiamento uniforme e percepito quindi come tale da tutto il sistema paese. Perché altrimenti abbiamo sempre un cambiamento a macchia di leopardo che non produce vera innovazione perché poi alla fine bisogna sempre affiancare le due modalità. Quella internet e quella tradizionale perché non c'è appunto un cambiamento di sistema. L'agenzia digitale dovrà fare questo. Quindi anche chi la dirigerà, il tema è abbastanza d'attualità, non deve essere a mio parere tanto un tecnologo quanto qualcuno che sappia davvero integrare i vari pezzi dell'amministrazione pubblica e saper creare le connessioni tra amministrazione pubblica e il resto del paese.